Paolo, come si imposta un lavoro di editing sulla prima stesura di un romanzo? Una volta che un romanzo è finito nella sua stesura principale, cioè la prima, l'autore, lo scrittore che l'ha scritto, ne sa molto più di quando scriveva all'inizio, cioè sa veramente alla fine che cosa voleva raccontare e in che modo, perché non è vero che quando cominci sai già tutto e sai anche il modo in cui devi farlo, perciò la prima impostazione per un editing è controllare se tutto quello che c'è alla fine è giustificato da tutto quello che c'è prima e quindi il prima va cambiato a seconda della fine e cioè il testo va sistemato, va risolto a seconda del punto in cui si è interrotto, sembra un paradosso, ma è così, soltanto attraverso quello che tu hai messo alla fine potrai sapere come andava scritto quello che è scritto fino a quel punto. Poi l'editing si fa generalmente cercando di togliere le parole inutili, omettere ogni parola inutile, dice Stephen King per esempio, il difficile è capire quali siano le parole inutili ovviamente, altri tipo Rick Moody dice togliete tutti gli avverbi, togliete tutti gli aggettivi e poi mettetene un po' a caso. Diciamo che la verità è che il testo deve suonare bene, essere naturale e quindi il lavoro principale sul testo deve essere proprio quello di leggere e rileggere, una volta sistemate le strutture, diciamo così, narrative della storia, affinché risulti naturale, spontaneo, non arzigocolato, non pomposo, anche quando è denso, tutto deve essere necessario. Appena notate qualcosa che non serve, zac, tagliate. Radio Genius